Cos'è che stiamo facendo? Stiamo facendo... Un video Un video Ma il video dei dummets? E come si chiama? Paramets 23 Perché io sto presento Quindi una bomba Ma prima Cioè, agli altri io lo dino il culo, a quelli che fanno la musca a froce. La guerriera downtown, tu l'hai detto? La guerriera downtown non c'è neanche più gusto a spaccargli i culi. Ma io sono il testo nuovo complesso, complesso sono... Allora, a parte del suca... Arrotti i coglioni fino alla fine per un suca si mette a ridere. Vai! Vai! Oh! No, è solo un pezzo di merda! Vai! Soca! E ogni giorno... Eh, tu cazzo! Se non faccio una nuova! Freestyle toilet! Direttamente da casa di mia sorella! Cazzo i boss! Oh, C! 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 Eh! Soca! 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 Soca!